Ok, eccoci quasi arrivati alla nostra fase di discesa, ci troviamo a 27 miglia più o meno da Nildu, dopodiché dovremo iniziare la nostra discesa perché se facciamo caso attenzione, qua c'è una scritta in verde con la scritta Tango slash Delta, vuol dire Top of Descend, il momento per iniziare a scendere, il momento massimo per scendere. Allora, come potete notare anche qui, su Bisba noi dovremmo ridurre la velocità a 2.90 in questo caso, io ce l'ho già ridotta a 2.50, non l'ho cambiata perché fondamentalmente me ne sono dimenticato, però potete anche fare un volo a 250 nodi, la velocità è a vostra discrezione, potete fare quello che volete. E comunque dobbiamo essere su Bisba a un flight level 2.59, dobbiamo scendere comunque, vuol dire a 25.900 piedi. Come si fa a scendere? con questo strumento qua, che è quello che abbiamo usato all'inizio per salire. Posizioniamo 25.000 e col tasto destro, anzi faccio così, ci mettiamo 26.000, mettiamo il puntatore sul meno, e col tasto destro, clicchiamo una volta, vedete, scende giù di centinaia, se faccio ancora col tasto destro, 800, 700, e via discorrendo. Ci portiamo comunque a 25.900, io adesso sto seguendo l'FMC, ma voi dovete seguire le cartine che scaricate da internet, mi raccomando. siamo ancora abbastanza lontanucci, comunque io mi sono già preparato, vedete, comunque se fino a quando non premo al centro e non gli do un ratio di discesa, l'aereo rimane stabile come l'avete programmato voi. Facciamo un esempio, diciamo che vogliamo scendere adesso, clicco al centro, mi si posiziona a 25.900, e gli do il ratio di discesa con il meno, clicchiamo, 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 vedete questo è l'archetto verde che compare, lo posizioniamo sul punto dove dobbiamo arrivare a quella altitudine, e l'aereo scende, mi raccomando ricordate anche di diminuire un po' la velocità. Ora che stiamo scendendo, se vi ricordate all'inizio vi avevo fatto cliccare in alto all'anemometro, ora cliccate in basso, vedete che queste lignette si sono spostate, sono la velocità di discesa in cui azionare il flap, quando saremo sulla prima tacca qua daremo una tacca di flap, quando saremo su quest'altra daremo una tacca di flap, e via dicendo, semplicemente. Facciamo sedere i nostri passeggeri, e procediamo con questa velocità, potete portarla anche a 230 se volete rallentare, attenzione sempre al vostro punto, e regolate l'altimetro con la B di bravo, perché sia nella salita che nella discesa il QNH cambia, quindi può cambiare anche la vostra altitudine. qua se vogliamo gli diamo una tacca di flap, usciamo fuori, tiriamo fuori i flap, i slats, per i segure la vostra attrazione. excuse... l'agrere 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 Grazie a tutti. C'è un avvisatore acustico che ci dice che stiamo per raggiungere la nostra altitudine impostata. Arrivati a Bisba con flight level 259 dovremo arrivare all'altro punto di riporto, BGR, a flight level 178. Scusate ho detto punto di riporto, ho sbagliato, volevo dire il prossimo waypoint. Grazie. 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 220. 220. 220. Grazie. 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 più velocemente, portiamoci a 8000 su CLE, dobbiamo essere 8000, aerofreni per rallentare perché siamo troppo veloci, diminuiamo la velocità ai 180,